Indovina chi? Con Dottoressa Pelush a scuola di medicina! E... si parte! Questa persona, nell'ufficio medico, misura la tua altezza e la tua temperatura. È un dentista? Un ortopedico? Un infermiere? O un dottore? Hai detto infermiere? Esatto! Proprio come Allie! Camice per operare, Allie! È già tutto pronto, Dotti! Continua a divertirti con Dottoressa Pelush a scuola di medicina. Da lunedì al venerdì, dalle 7.30 di sera, a Disney Junior. Grazie a tutti!